Prima sono arrivate le esplosioni, poi le frecce, le spade, le grida. La marcia nemica ha calpestato la terra fin sotto le mura dell'antico castello e per 43 giorni si è udito solo lo sparo dei cannoni, il lamento dei feriti e il rumore delle armature. Le fiamme della battaglia non si sono fermate né davanti alle perdite né davanti alla fame e gli assediati non hanno ceduto nemmeno un respiro. Mai! Con le armi e con la parola, l'illustre signore di Rimini, Sigismondo, bandolfo Malatesta, ha così salvato la possente rocca di Gradara, tanto preziosa quanto ambita dai nemici. Nell'aquila dei Montefeltro, nel Leone Sforzesco, sono riusciti a recidere la rosa Malatestiana che con onore e determinazione ha protetto la sua gente e i suoi territori. Una battaglia epica, che verrà ricordata a lungo. Una prova di coraggio contro gli eserciti e le lotte di potere. E oggi, la storia si ripete. L'assedio ritorna con uno spettacolo mai visto. Il più grande di sempre. 200 figuranti con cavalli, accampamenti, vettovaglie e armi da fuoco. 1000 kg di fuochi d'artificio. 2500 detonatori. 50 km di cavi elettrici. Colonna sonora suonata da un'orchestra di 50 elementi. Riprese dell'evento. Proiezioni live su Leadwall e diretta TV. Difendiamo insieme il castello. Finché la teniamo in vita, la storia non andrà perduta. Dunquee. Grazie.